Sì, sicuro, ma non mi interessa il denaro se è questo che mi sta offrendo. Vede John, io ci sono già passato per situazioni come questa. Sarà così anche per lei. Mi dispiace, ma io non mi fermerò. Carlo Valli nel cast di Life, io devo dire, prima di tutto è un grandissimo onore per me. Carlo è una delle colonne del doppiaggio italiano, storica voce di Robin Williams, ma soprattutto mi sono trovato davanti ad una persona che nonostante la grandezza ha dimostrato di essere di una disponibilità e credo che questa sia forse la caratteristica più bella e anche più umana di un grande professionista come te Carlo. Grazie ancora. Benvenuto nel cast di Life. Grazie a te Alex. Mi fai arrossire con tutti questi complimenti. Comunque sono contento di aver fatto questa lettura perché è interessante e mi ha divertito e sono stato felice di farla. Poi volevo dirti un'altra cosa. Hai visto? Insieme ce l'abbiamo fatta. Life. Il primo film senza immagini. La realizzazione di una colonna audio dove l'immaginazione è la grande protagonista in grado di proiettare ciò che non vedrai. Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. Film senza immagini. Perché l'emozione la vivi ascoltando. Quando sono stata là, io ero io. Life. Con le voci più famose che hai conosciuto al cinema e in tv. Trova una soluzione perché il prestito che hai avuto da noi può partire con stu cazzi il programma. Life. Il primo film senza immagini. Chiudi gli occhi e vedrai.